Il primo giorno di fuga dal mondo Comunicato numero uno Uno Troppe cose, sono stupide Troppe Troppe cose, sono stupide e questi due uguali suonano uguali era il primo giorno di isolamento poi venne il secondo quante cose abbiamo studiato da allora giorno 297 di isolamento è terribile quello che andiamo scoprendo non si abbatte il dolore applicammo su noi stessi l'agopuntura la riflessologia l'ipinosi la mia terapia il dolore non si abbatte quanto tempo è che stiamo correndo secoli io non reggo più ho bisogno di parlare mi stai registrando come sempre luce intima intima vado vai un uomo storpiato nelle proporzioni estorpiato anche nel cervello è per questo che sono muti è nell'uomo vetroviano il segreto della mente l'anatomia touch me touch me kiss me kiss me kiss me kiss me è terribile quello che andiamo scoprendo dopo 1148 giorni di isolamento stiamo registrando come sempre è nella mancanza di storia l'inutile della vita non bisognerebbe mai dire a un bambino fai questo e senza storie senza storie non siamo figuriamoci se facciamo sono mille e ventidue giorni che ci intrichiamo di linguaggio abbiamo scoperto l'analisi la sintesi induzione deduzione oggettivazione oggettivazione metafor e metodemie la protezione climatica i peri metodolatici catacrassi catacresti resisti resistimento che ti sentite di autologica uno dell'autochiasme sincomere ancora non rappare all'orizzonte una minca Giorno 3810 di isolamento. Il fallimento dell'uomo della scienza è nel linguaggio. Esso si imbroglia, si sbaglia. Si intrichia. Si interchia. Si intirchia. Basta! Non guardarmi, non mi sento! Ho bisogno di amicizia. Mi senti, signore autore? Questa vita! Mi senti! Questa vita costretta a vivere! Non è vita! Hai sfogato? Completo. Allora... Ci siamo? Sì. Bene. Ciao. Ciao. Signore autore, mi senti? Mi senti? Questa vita costretta a vivere! Ti ricordo? Non è vita! Eravamo angeli ribelli! Questo... Quanto tempo... Una vita! Quante cose abbiamo studiato da... Quanto tempo... Quanto tempo... Forse... Riguardando ritroviamo... La ragione... Ti ricordi? Come tutti... Io ho cominciato... Troviamo... Il motivo... Perché... Siamo qua... La bellezza... E neanche me lo ricordavo più... Che c'era un motivo... Tutto questo... Mi senti? Tutto questo... Anni fa... Anni fa... Anni fa... Non è vita! E... E' strano... E' difficile... Quante... Cose abbiamo... Studiato da allora... Quante... Vedi? Dove? Lì... Vedi? Dove? Lì...